L'ultimo provvedimento anti-xilella dell'Unione Europea vieta la movimentazione di 180 specie vegetali dalla zona del Salento infettata dal batterio killer. Fra queste c'è la vite. Così 20 milioni di piante di vite messe a dimora per arrivare sul mercato in autunno potrebbero essere presto distrutte, mettendo in ginocchio i viticoltori dopo gli olivicoltori salentini. Le viti della provincia leccese vengono asportate in tutta Italia ed anche all'estero. Ad Otranto ed intorni sono una cinquantina le aziende vivaistiche specializzate nella produzione di barbatelle da vite, aziende che rischiano di chiudere. Già da alcuni mesi hanno patito un calo negli ordinativi, benché tutti i 3.000 campionamenti effettuati dall'osservatorio fitosanitario regionale abbiano dato esito negativo, a dimostrazione del fatto che la xylella non attecchisce sui vitigni, ma l'Europa vuole bloccare comunque le importazioni di barbatelle dal Salento. I vivaisti salentini aspettano ancora risposta alla lettera inviata oltre un mese fa al commissario per l'emergenza xylella Giuseppe Silletti per chiedere di preservare un settore vitale per l'economia agricola leccese. Il Tar Lazio, al quale si sono appellate 26 aziende, invece si è espresso a favore della sospensione del piano Silletti. Il 24 aprile scorso i giudici amministrativi romani hanno deciso lo stop al piano, rinviando la discussione al 6 maggio e bloccando di fatto le eradicazioni degli ulivi e di altre 12 piante infettate dalla xylella, fra cui ciliegi e mandorli.